Cari Tarantini, sono dinanzi a Palazzo di Città. Guardate quella bandiera, quella che rappresenta il logo dei ventesimi giochi del Mediterraneo, Taranto 2026, giochi del Mediterraneo, è una vera presa per il culo. Perché? Perché tutte quelle promesse che erano state fatte dal governatore Emiliano e tanto ossequiato dal sindaco Melucci che si sciacquava la bocca con la realizzazione di grossi impianti sportivi, il nuovo stadio di calcio, la piscina olimpiodica, quasi certamente non saranno più realizzate per il 2026 per i giochi del Mediterraneo. Quindi niente stadio e niente piscina olimpionica per Taranto. E queste attività sportive verranno spostate in altre città della Puglia, quasi sicuramente Bari. Ebbè perché si sa, Taranto ormai è la cenerentola, è quella che deve essere schiacciata, calpestata, soffocata dai baresi per volontà di Emiliano e ovviamente il buon Melucci che fa, deve dire signor sì dinanzi al suo capo, dinanzi al suo padrone politico, tutta una serie di vicende che comporteranno uno slittamento nella realizzazione di queste opere. Queste cose non le dico soltanto io ma le ha dette ufficialmente in commissione bilancio Ennio Sannicandro che è il direttore di Asset ed è il direttore del responsabile del comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo. ha detto i tempi saranno lunghissimi, c'è tutta una serie di vicende amministrative anche giudiziarie per le quali queste opere non si realizzeranno nel 2026. Forse si realizzeranno chissà quando, tra dieci anni, un po' come la favola dell'ospedale San Cataldo, gli slittamenti, quello almeno è iniziato. Qua invece non c'è neanche la prima pietra, però ovviamente i cittadini di Taranto devono essere presi per il culo e quindi chiaramente il cittadino ha boccato quando Melucci con i rappresentanti del CONI e quant'altro si gonfiava come un pavone. Ma le bugie hanno le gambe corte, la verità è presto venuta a galla per dichiarazione, per triste abissione dello stesso direttore del comitato organizzatore dei giochi. E così, come vi dicevo, questo è palazzo di città, quella bandiera serve soltanto a far illudere i tarantini, perché i giochi del Mediterraneo non si terranno affatto a Taranto, avrà qualche contentino Taranto, niente stadio, niente piscina e Bari godrà, si ingrasserà più di quanto già si ingrassa solitamente e quotidianamente. Ma questa è l'amministrazione Melucci, ecco perché quando fanno quelle conferenze stampa, quando fanno quegli annunci ad effetto, lui, Melucci, Mattia Giorno, Manzulli, vi raccontano soltanto chiacchiere, favole, illusioni, inganni ai danni di noi cittadini. Io mi sento preso per il culo come consigliere comunale e come cittadino. Questa, signori cari, è la realtà. Taranto, lo ripeto per chi non avesse ancora ben capito, non avrà né nuovo stadio e né piscina olimpionica, l'avrà tra decenni, ma l'importante e prendere per il culo i tarantini con quella bandiera che sventola.